Una vasta operazione interforze si è svolta ieri nell'area di Porta Nolana, impegnando il reparto della Polizia Locale, la Questura, la Guardia di Finanza, i Carabinieri e la Polizia di Stato. Oltre ai 38 uomini della Municipale, per il Comune erano presenti anche due carri gru della Napoli Park ed autocompattatori ed autocarri della SIA. Un intervento di contrasto ad abusivismo commerciale, prostituzione e spaccio di droga, oltre che di controllo della sicurezza stradale. Sono stati sequestrati due camion pieni di suppellettili utilizzate per attività illecite e circa 20 quintali di abiti ed oggetti recuperati dai cassonetti per essere venduti sul marciapiede o sulla strada. Sono state rimosse anche cinque auto abbandonate, trasformate in discariche e decine di paletti e catene abusive che chiudevano spazi sul suolo pubblico. Le operazioni di controllo del territorio proseguiranno nei prossimi giorni con altri interventi congiunti ed in diversi orari.